una mela a tutti qui è Celsita23 si lo so il mio saluto è qualcosa di spettacolare no vabbè perché il solito ciao a tutti mi sembrava un po' scontato quindi vabbè una mela a tutti questo è un deathmatch squadre su radiation farò 21-1 e la classe è una K47 con leggero pro gioco di prestigio pro e hacker ragazzi io questa partita non la volevo mettere però l'ho messa solo per un motivo perché l'unico morto che ho fatto è qualcosa di spettacolare cioè io l'ho presa a ridere perché è un'uccisione veramente assurda tra poco la vedrete però non vi svelo nulla perché è veramente figa comunque si è una partita abbastanza carina perché prendo cobra supporto aereo e cani ecco Johnny che stava in partita con me e si devo dire che ci sono un po' rimasta male perché quando ho preso il supporto aereo l'ho chiamato ed è finita la partita però vabbè è una partita abbastanza carina alla fine c'è una tripla con i cani che secondo me è spettacolare vorrei ringraziare ifreaksvenom che è veramente tanto gentile è il mio editor che mi edita sempre le clip è sempre molto disponibile poi qui sotto vi linko alcuni canali io ragazzi faccio sempre pubblicità se volete che pubblicizzo il vostro canale scrivetemelo perché lo faccio volentieri e poi saluto tutti quelli di Melagodo in particolare un saluto a Johnny che mi ha preso la partita con con la scheda acquisizione a Ron che oggi ci ha deliziato con le sue chicche con l'L96A1 eravamo in 5 contro lui e ragazzi ha vinto ha vinto cioè penso che dopo questa possiamo tutti andarcene ciao a tutti non ci rivedremo mai più no ragazzi è veramente bravo sì saluto anche Caldux che è un ragazzo che mi ha passato alcune clip e merita questa citazione comunque ragazzi la mimetica a Varsavia è veramente spettacolare io e Johnny approviamo prendetevela anche voi ecco qui io tentavo di mandare il supporto aereo ma non ci sono riuscita poi tenterò nuovamente e non ci riuscirò ugualmente che è una cosa che odio effettivamente perché non secondo me sbaglio a selezionare cobra e supporto aereo insieme che culo questa citazione è veramente a culo qui mando i cani e la partita effettivamente è un po' corta dura 4 minuti qua mi hanno chiamato al telefono e sì qui è mentre sto parlando con mia madre vabbè e comunque vi ringrazio a tutti che continuate a seguirmi sia sul canale sia sulla pagina facebook no eccola cioè guardate che spettacolo è veramente una cosa mi sono vergognata come però l'ho presa a ridere perché se non la prendi a ridere così ancora provo a mandare il supporto aereo ma non va vi piace il mio emblema carino poi sta bene su quella mimetica qui mando il supporto però la partita finisce e vabbè ho un po' rosicato un saluto a tutti vi linko i canali andate passate a vederli ciao ciao ciao